Benvenuti a Due Parole con l'Assessore e benvenuto ad Andrea Anichini, Assessore del Comune di Scandicci, con delega fra le altre alla mobilità. Grazie di essere con noi, Assessore, in una veste en plein air, vediamo. Sì, per questione tecnica ho dovuto uscire all'ufficio, siamo qui al Castello Lacciaiolo e comunque la location migliora anche il mio aspetto. È una bellissima cornice. Dunque, Assessore Anichini, parliamo di una piccola rivoluzione, intanto possiamo dire, per quanto riguarda la zona di San Giusto e Torregalli. Giovedì scorso, 12 novembre, è stato invertito quello che era il senso storico, possiamo dire, proprio di Via di San Giusto. Questo, ora lei ci spiegherà, immagino è solo il primo passo di un progetto molto più ampio, teso a salvare, diciamo così, quella zona dal traffico annosso. Comunque sia, intanto in questi primi giorni si sono già visti dei miglioramenti per quanto riguarda la viabilità in quella zona? Purtroppo siamo in una fase di semi-lockdown. Non c'è modo di testarlo. È difficile testarlo perché chiaramente siamo in presenza di flussi di traffico minori, anche noi sul nostro territorio. Stiamo proprio monitorando anche questi elementi di flussi di traffico, per esempio sulle zone industriali, dove abbiamo dei sistemi di misurazione proprio del traffico. Vediamo che la presenza anche del traffico dovuto alla viabilità normale si è ridotta fortemente in questa fase. La viabilità da sempre ha un problema relativamente alla zona, in quanto sostanzialmente è un punto di attraversamento importante di flussi di attraversamento. Quindi non si parla soltanto di flussi della mobilità residenziale, ma anche di attraversamento, soprattutto di collegamento fra la zona del Galluzzo e la zona del Ponte all'Indiano. Mi fa molto piacere che da amministratore riesco a vedere i primi davvero passi concreti a un miglioramento della zona. La realizzazione della nuova viabilità Niddei Otti, che è realizzata in Comune di Firenze, perché comunque tutta la viabilità, il cambio della viabilità cade sul territorio ferrentino, ha visto la possibilità di invertire via di San Giusto e quindi permetterà di fare un anello di congiunzione fra via di Scandicci e via Le Nenni, che è un'arteria altrettanto importante di traffico di attraversamento, in maniera tale che ci sia un maggior collegamento fra queste due grandi strade, che è una via di Scandicci e l'altra via Le Nenni, oltre a quelle già esistenti. Quelle esistenti per la maggior parte cadono dentro all'interno dell'abitato di San Giusto. Quindi diciamo che un territorio di alteria che collega via Le Nenni permette anche una diminuzione del traffico di attraversamento su via del Pontagrieve, che è la strada storica, via Mendola è la strada storica. Questo chiaramente non risolve, perché è, come si diceva prima, un primo passo. Il tema è quello di realizzare altri interventi strutturali, in particolar modo quello più importante, e quello anche più urgente è la rotonda intorno all'Acip, attuale Acip, della zona del cantone, quindi all'incrocio fra via di Scandicci e via delle Bagnese, e quindi quello permetterà il superamento del semaforo, che è un semaforo che ormai purtroppo per le dinamiche di flussi di traffico non riesce più a dare una risposta concreta, anche se è un semaforo, diciamo, così intelligente, che ha la possibilità di avere una temporalizzazione differente, sia nell'orario e anche di flussi rispetto ai vari tracciati. È vero anche che purtroppo lì i flussi di traffico, sia verso Scandicci e verso Firenze, sono equivalenti e quindi è difficile anche soltanto col cambio della tempistia di modificare il livello di traffico. Quindi la rotonda, questo renderà tutto più fluido e quindi renderà anche più importante e più efficiente anche la lavorabilità di via di Nizia e di Otti e il cambio del senso di via di San Giusto. A livello di tempistica, Assessore, come vede lei la possibilità di raggiungere, se non altro, la seconda fase, ovvero sistemare la rotatoria del cantone? Purtroppo, per fortuna, sono opere che deve realizzare il Comune di Firenze. La fiducia che abbiamo nel Comune di Firenze deriva proprio dai fatti concreti che ha dimostrato negli ultimi anni. Comunque sono opere onerose perché anche la rotonda di via dell'Acip, credo, se non ricordo male, costi almeno 2 milioni di euro, quindi sono importanti investimenti di realizzazione. Diciamo che quella, la rotonda, è a un buon punto, un ottimo punto progettuale, quindi si parla già di un progetto definitivo, quindi dopo il definitivo tanto per dare un'indicazione ai cittadini e a lei poi dopo questo c'è il finanziamento da parte dell'opera e poi la gara per la realizzazione. Lì credo ci siano più problemi di genere, diciamo così, amministrativo urbanistici, su alcune previsioni urbanistiche delle aree e anche degli espropri, e quindi siamo indietro sulla realizzazione in questo. Comunque nel corso di questa vostra legislatura, di questo vostro mandato... L'obiettivo sarebbe questo. Che Firenze ce la possa fare, sì. L'obiettivo, almeno ci sarà dato, è un obiettivo insieme all'assessore di Firenze, all'assessore di oggetti, con cui si collabora molto effettivamente, che è l'obiettivo di vedere la luce, diciamo così, entro questa legislatura. Altro elemento di discussione, perché comunque, come dicevo prima, la viabilità di San Giusto riguarda relativamente non soltanto il tratto proprio progettamente di San Giusto, ma come si diceva prima, un collegamento fra due grandi infrastrutture, quindi la zona di Galluzzo, quindi con tutta la zona che riguarda il casello autostradale, con quello che è l'accesso poi al Ponte all'Indiano, con un'altra importante arteria che collega Firenze Nord, lì c'è un progetto a questo punto preliminare, sempre fatto del Comune di Firenze, che va a cercare di risolvere il nodo della via Chiavea Pisana, quindi dal tratto della greve, diciamo così, a via della Casella, non ricordo male, che poi immette poi sul Ponte all'Indiano. Che lì c'è una fase progettale del Comune di Firenze, che migliorerà, diciamo così, quel nodo strutturale, che è anche il collegamento fra via Pestalozzi, diciamo, che è sericato sul nostro comune, via Pisana e il Ponte all'Indiano, con realizzazione di nuove abilità e di nuovi anche sensi, che permetterà una maggiore fluidificazione del traffico. Grazie allora all'assessore Andrea Anichini, con delega alla mobilità, e grazie a voi per averci seguito.